Pallone proprio nella lunetta, posizione centrale. In barriera c'è pure lo tito, anche Sor Paola, ci stanno tutti. Sta per fischiare tagliavento. Vediamo se parte Mirko, parte Mirko. Il tiro! No! Mirko! 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 La barriera si è aperta, la barriera si è aperta come le acque al passaggio di Mosè. È passato Mosè, si è aperta le acque, è entrato il tiro di Mirko. È la Roma che passa in vantaggio, la Roma che passa in vantaggio. Mamma mia che gol, mamma mia che gol, anche De Rossi in campo. Mirko che viene sommerso, il terzo gol nel derby di Mirko Vucinic. La Roma che passa in vantaggio al diciottesimo minuto. Un gol straordinario di Mirko. Una fucilata, una sassata incredibile. Che sassata! Tredicesimo gol. Tredicesimo gol. Mamma mia che tiro. Gli ha fatto un'istantanea muslera che ne manco si è mosso. Si è aperta la barriera come le acque al passaggio di Mosè. 2-1 per la Roma.